La comunicazione a servizio della verità e strumento di speranza è il messaggio del Santo Padre in occasione della giornata delle comunicazioni sociali in diocesi giornata a sostegno di Telepace. L'ascensione ricorda che Gesù ci ha lasciati la responsabilità di annunciarlo. Durante il Reggina Cieli il Papa ha pregato per le vittime del terrorismo e al termine un grazie ai genovesi per la festosa accoglienza. Il Papa ha ridato ali a questa città. Primo bilancio della visita del Papa a Genova da parte del Cardinale Angelo Bagnasco. Tutte le consegne lasciate da Francesco alla chiesa genovese e questa sera lo speciale direttamente su. La vite non finisce sulla terra. L'ascensione invita ad avere prospettive alte. La Santa Messa del Vescovo in cattedrale. Il seminarista Andrea Costa ha ricevuto il ministero dell'elettorato. Alessandro Cavallo quello dell'accolitato. Non sparate sul postino. È il titolo della commedia in tre atti che rappresenteranno i ragazzi dell'Istituto Caboto. Il progetto propone un percorso di formazione umana e culturale. Chiuso l'Europeo Master di Scherma a Chiavere l'Italia. Prime nel medagliere. Gli atleti azzurri hanno vinto sei ori, otto argenti e otto bronzi. Per la città un successo di presenze con oltre 5.000 persone da 35 nazioni. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori. Benvenuti nei nostri studi. Sono state giornate davvero intense quelle vissute dalla nostra diocesi in comunione con quelle di tutta la Liguria per la visita del Santo Padre a Genova. Telepace, grazie anche all'impegno di tanti volontari, ha seguito in diretta tutti i momenti della visita del Pontefice. Ieri invece si è celebrata la 51esima giornata delle comunicazioni sociali della quale ha parlato anche il Santo Padre nel Reggina Cieli recitato in Piazza San Pietro. Nelle nostre parrocchie inoltre si è svolta la giornata diocesana a sostegno della nostra emittente. Telepace. Tutti i temi questi fortemente correlate per i quali abbiamo un editoriale del nostro direttore Don Fausto Brioni. Lo ascoltiamo. Carissimi, ieri si è svolta la 51esima giornata delle comunicazioni sociali. Per noi di Telepace in un tempo molto particolare, appena compiuto il nostro 27esimo compleanno. Ieri era la giornata di sostegno per Telepace. Abbiamo vissuto l'impegno straordinario per la visita di Papa Francesco a Genova. Un tema quello della giornata delle comunicazioni sociali che ci invita ad essere comunicatori di speranza e fiducia nel nostro tempo. Vediamo cosa ha detto ieri Papa Francesco a Regina Celi. Si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema non temere perché io sono con te. I mezzi di comunicazione sociale offrono la possibilità di condividere e diffondere all'istante le notizie in modo capillare. Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o false. Preghiamo perché la comunicazione in ogni sua forma sia effettivamente costruttiva al servizio della vita, rifiutando i pregiudizi e diffonda speranza e fiducia nel nostro tempo. Questo messaggio sintetico vuole essere a corollario di quello che è stato diffuso. Un testo che trovate sul sito della nostra emittente teleardiopace.com e che invita ad avere attenzione a che cosa mettiamo nel nostro mulino. È la citazione di un padre della Chiesa, quella che fa Papa Francesco, dice che i nostri antichi padri nella fede parlavano della mente umana come di una macina da mulino che mossa dall'acqua non può essere fermata. Chi è incaricato del mulino però ha la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzagna. La mente è sempre in funzione, non può cessare di macinare ciò che riceve. dipende da noi stabilire che materiale gli forniamo. E allora il Papa ci invita a, per noi, utenti degli strumenti di comunicazione, lo siamo tutti, e poi per quelli che lo fanno, questo lavoro come lavoro appunto, di trasmettere buone notizie. Non lasciarci prendere solo dal pregiudizio della cattiva notizia. A volte della maldicenza. Notizie buone, notizie cattive. Notizie vere, notizie false. A volte per ottenere magari chissà che cosa di scuppo, di ascolto, di attenzione maggiore si inventano cose che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Allora il Papa dice la buona notizia. La buona notizia per eccellenza è il Vangelo, una notizia buona per tutta l'umanità. E poi dice la fiducia nel regno. Il Vangelo ci invita a mettere gli occhiali di Dio, a vedere la realtà con gli occhi di Dio, a togliere gli occhiali del pregiudizio. Gli occhiali di chi vuol vedere per forza il male, per forza l'oscurità, il torbido. E si lascia fermare da questo pregiudizio. Il regno di Dio cresce e allora avere gli occhiali del Signore e poi ancora gli orizzonti dello Spirito Santo. Cioè non solo gli orizzonti mondani, non solo il basso profilo. Ce l'ha insegnato proprio in questo giorno trascorsa Genova il Papa a guardare il mondo del lavoro, la vita religiosa, il mondo dei giovani, perfino il mondo della sofferenza, la sofferenza dell'innocente con uno sguardo rinnovato dallo Spirito di Dio. Allora in questo essere capaci di vedere la novità, il buono, essere di quelli che macinano un grano buono che fa bene a tutti. L'elenco delle parrocchie che hanno partecipato questa domenica alla giornata diocesana, sostegno di Tele Radio Pace e quella che la celebreranno nelle prossime domeniche si può trovare sul nostro sito internet www.teleradiopace.com. Nella riflessione proposta prima della recita della Regina Cieli, il Papa si è soffermato sulla solennità dell'ascensione, ribadendo che questo avvenimento ricorda la dignità e la responsabilità che Gesù ha lasciato di annunciarlo a tutto il mondo. Sentiamo. Stanno a guardare in aria e ancora non hanno ben compreso che il prodigio a cui stanno assistendo, Gesù che si stacca da terra e sale al cielo, non è la fine ma l'inizio. A Regina Cieli, affacciato su piazza San Pietro, Papa Francesco ha spiegato che l'ascensione segna il momento in cui la presenza di Cristo nel mondo è mediata dai suoi discepoli. Discepoli che sono ancora una comunità spaurita, eppure a loro Gesù affida il compito immenso di evangelizzare il mondo. Questa promessa è accompagnata dall'assicurazione che Cristo sarà con tutti i suoi fino alla fine del mondo, portando fortezza e sostegno nelle fatiche missionarie. L'ascensione ci ricorda questa assistenza di Gesù e del suo spirito che dà fiducia, che dà sicurezza alla nostra testimonianza nel mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa. La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello. E anche la gioia della Chiesa è annunciare il Vangelo. La Chiesa siamo tutti noi battessati. Oggi siamo invitati a comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibili all'umanità. Questa è la nostra dignità. Questo è il più grande onore di ognuno di noi. Il Papa ha quindi rivolto un appello affinché il Signore converta i cuori dei terroristi, rivolgendo il suo pensiero, la sua preghiera alla Chiesa copta ortodossa d'Egitto, inseguinata dall'attentato jihadista di tre giorni fa, ricordando anche le vittime della violenza nell'arena di Manchester di lunedì scorso. In conclusione non poteva mancare anche un pensiero a Genova e ai tanti fedeli che lo hanno accolto sabato scorso. Voglio concludere, ha detto il Pontefice, con un grande salute ai genovesi e un grande grazie per la loro calorosa accoglienza che mi hanno riservato nella giornata di ieri. Che il Signore li benedica abbondantemente e la Madonna della Guardia li custodisca. Grazie al Santo Padre che ha ridato ali a questa città. Questa è l'affermazione molto forte del Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, il giorno dopo l'intensissima visita del Papa a Genova. Non solamente ha scelto di venire a Genova, e questo per noi è stato ed è motivo di grande gioia, onore e gratitudine, ma anche perché il tour de force che gli abbiamo fatto fare lui a lui e che lui ha seguito con grande gioia ed entusiasmo. E pochi minuti dopo la partenza di Francesca è stato proprio l'arcivescovo di Genova a tracciare un primissimo bilancio di questa visita pastorale del Papa, facendosi portavoce dalla gioia del Pontefice al termine della lunga e intensa giornata. Sentiamo quindi il Cardinale Arcivescovo di Genova, Monsignor Angelo Bagnasco, ai nostri microfoni. Era molto contento, stanco, stanco, questo è ovvio, ma molto molto contento, molto contento proprio di sentirsi così abbracciato con tanto calore da tantissima gente. Non si spegne l'eco dell'entusiasmo che ha accompagnato il passaggio di Papa Francesco in terra genovese. A meno di 48 ore di distanza dalla visita del Pontefice all'Arcidiocesi di Genova restano vive le immagini e le tappe che hanno scandito una giornata intensa e a tratti commovente. Dall'incontro con il mondo del lavoro all'Ilva fino alla celebrazione eucaristica conclusiva presieduta a Piazzale Kennedy sono stati diversi i messaggi che Francesco ha voluto consegnare a giovani, lavoratori, ammalati e religiosi. Da questi, secondo l'Arcivescovo di Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco, intervistato al momento del congedo del Santo Padre all'aeroporto, occorre ripartire affinché dalle emozioni del momento nascano frutti duraturi nel tempo. Ce n'è in abbondanza e dobbiamo interiorizzarlo, non dimenticare, non essere turisti, lui diceva. I turisti sono quelli che fanno le foto delle cose più belle ma non le guardano. È vero. L'auspicio che per tutti ci sia un lavoro, perché da questo dipende la dignità dell'essere umano, è risuonato forte ed è stato accolto con un lungo applauso dai lavoratori che Papa Francesco ha incontrato all'interno dello stabilimento Ilva di Cornigliano. Il Papa ha insistito moltissimo sulla dignità del lavoro. Il lavoro deve essere degno per dare dignità alla persona umana, la quale ha bisogno non solamente di uno stipendio mensile per vivere lui e la propria famiglia, ma anche quello di realizzare se stesso. E dopo l'incontro e l'abbraccio dei giovani al Santuario della Guardia, ai quali Francesco ha chiesto di non vivere la vita da turisti ma di andare in missione testardi nella Speranza e prima della Santa Messa conclusiva la tappa all'ospedale Gaslini con l'incontro in corsia dei piccoli malati e delle loro famiglie. Ringrazio di cuore coloro che lavorano in questo ospedale, il loro lavoro, la loro umanità, la loro carezza ai tanti bambini che da piccoli portano la croce, ha lasciato scritto nel registro degli ospiti illustri. Il Papa è passato come un angelo e a tutti ha distribuito un sorriso, una mezza parola, una benedizione, lasciando proprio il segno. Io vi ricordo la trasmissione direttamente su, che andrà in onda questa sera, sarà dedicata interamente alla visita del Santo Padre a Genova con un collage di interviste realizzate all'Ilva, in Cattedrale, al Santuario di Nostra Signora della Guardia e anche in Piazzale Kennedy per la Santa Messa. Guiderà all'ascolto il nostro direttore Don Fausto Brioni. L'inizio è fissato per le 21.10 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Non perdete. Tra le innumeresime persone che hanno prestato servizio durante la visita del Papa a Genova, anche una delegazione della Polizia Stradale di Chiavari a fare da apripista al corteo papale durante i trasferimenti, un'autovettura BMW della Polizia Stradale Chiavarese con a bordo il comandante Massimo Barletta che ha così raccontato l'esperienza proprio questa mattina in diretta nel Buongiorno di Telepace a Marco Revello. Anche voi avete fatto un gran lavoro e so che tra l'altro lei è capitato anche un compito particolarmente importante. E anche, voglio dire, forse una giornata che per lei non sarà tanto dimenticabile nel corso della sua carriera in Polstrada. No, direi di no. Io non so se il compito era importante. È stato senz'altro emozionante fare da apripista alla macchina che precedeva il Santo Padre in tutti i suoi esportamenti, che era la macchina che, come avrà potuto notare chi ha seguito l'evento in televisione, trasportava il comandante della gendarmeria vaticana e il Padre Sapienza, il regente della Casa Pontificia. È stata un'esperienza emozionante, sicuramente è stata un'esperienza che lascerà il segno. Ma siamo stati quasi tutti impegnati sia nel distruttamento di Chiamali che dalla sezione di Genova che dalla sottosezione della Polizia Contradale di Genova a San Piero d'Arena per sentire una viabilità di una Genova evidentemente bloccata, ma l'importanza della personalità non poteva consentire di fare altrimenti e anche il rischio a cui può essere sottoposto un obiettivo del genere in questi momenti particolari non consentiva di fare altrimenti. Però, ripeto, è stata un'esperienza, sì, senz'altro toccante e emozionante, credo, per tutti coloro che hanno avuto l'onore di partecipare a questo servizio. La vita non finisce qui sulla terra, l'ascensione invita ad avere prospettive alte. Così, il Vescovo Diocesano, celebrando ieri la solennità in cattedrale, in questa occasione un seminarista ha ricevuto il Ministero dell'Ettorato, un secondo seminarista, quello dell'Accolitato. Il servizio, lo vediamo insieme. L'ascensione di Gesù al cielo insegna ad avere prospettive alte, non ridotte alla sola vita terrena. Nella celebrazione in cattedrale, il Vescovo è invitato a non guardare soltanto all'oggi, alle necessità immediate e ai propri interessi, atteggiamenti propri della cultura del secolarismo, ma piuttosto a cercare quella condizione di vita nuova che prende luce dalla gloria di Dio. È una fuga dal mondo? No, ha risposto Monsignor Tanasini, è ravvivare la propria esistenza, sentire quella forza nuova che distoglie da egoismi e grettismi, senza il timore che tutto finisca qui, sulla Terra. Se non è vero che a forza di pensare prevalentemente le cose della Terra, abbiamo perso il senso del grande orizzonte della vita dell'anima. quanto preghiamo poco, come diventa strano l'avere una vita interiore. Mi diceva una persona, alla quale con molta semplicità, è stato chiesto, ma tu vai a messa tutti i giorni. E lei con altrettanto semplicità ha detto, sì, vado a messa tutti i giorni. E il commento, ma è pazza, è pazza, capite a che punto siamo arrivati a come pensare. Non ci rendiamo conto che andare a messa tutti i giorni vuol dire tenere aperta questa prospettiva del cielo, di incontro con Cristo, di legami con Lui, vuol dire tenere viva la nostra anima. Durante la celebrazione il seminarista Andrea Costa ha ricevuto il Ministero dell'Ettorato, momento significativo anche per il seminarista Alessandro Cavallo, che ha ricevuto invece il Ministero dell'Accolitato. Ora cambiamo argomento. Il proprietario del motoscafo, che sabato ha investito un gozzo a Punta Manara di Sessi Levante uccidendo un pescatore, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. La vittima, Walter Rodaelli, di 47 anni, si era gettata in mare avvisato dall'altro pescatore che era con lui, Massimo Panero, e che aveva notato il motoscafo giungere verso di loro, ma non era riuscito ad allontanarsi. Il motoscafo avrebbe colpito la poppa del gozzo, tranciando il motore fuori bordo e colpendo l'uomo. Il corpo ha diverse ferite da taglio, ma solo l'autopsia potrà dare maggiori certezze sulla dinamica di questo incidente. Una perizia è stata disposta per verificare eventuali avarie. La procura ha chiesto alla Capitaneria l'analisi dei dati del GPS del motoscafo per capire a quale velocità si stesse muovendo. Ancora cronaca, ha intercettato le comunicazioni del 118 e ha direttato le ambulanze della città. È successo nella notte a Genova. Le trasmissioni tra la sala operativa e i mezzi di soccorso sono state intercettate e inviate in luoghi errati, addirittura con codici sbagliati da una voce sconosciuta. Voce che è stata riconosciuta dai dipendenti di una croce del ponente e interpellati perché il disturbatore utilizzava le loro sigle come quella di un ex militare della croce stessa. La polizia si è recata in casa di quest'uomo, un genovese di 34 anni, e qui lo hanno trovato due radiotrasmettenti sintonizzate sui canali dei vigili del fuoco, dei vigili urbani e della protezione civile del 118. L'uomo è ovviamente stato denunciato. Domani all'ora 21 all'auditorium San Francesco di Chiavari, il laboratorio teantrale dell'Istituto di Istruzione Superiore Caboto di Chiavari, col patrocinio e la collaborazione del Comune di Chiavari, metterà in scena la comedia in tre atti di Derek Benfield, non sparate sul postino. Riduzione adattamento costumi e musica di Francesca Lamarca, i risconti, le scenografie sono di Elisabetta Frazzuoli. L'ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a favore di Telepace. Sentiamo ora le anticipazioni nel servizio che segue. Da alcuni anni l'Istituto Superiore Caboto di Chiavari propone ai suoi allievi un percorso di formazione teatrale. È una scelta libera loro. La offre la scuola, perché è offerta ormai da tanti anni dalla scuola, dall'istituto, però i ragazzi scelgono loro di poterlo frequentare il pomeriggio. Ed è importantissimo, perché noi abbiamo visto i frutti di questa scelta libera nel corso degli anni. Nel senso che quando una cosa la scegli tu e la fai tua, il tempo che gli dedichi è veramente un tempo prezioso. L'ultimo lavoro che ha impegnato i ragazzi è la messa in scena di Non sparate sul postino, commedia in tre atti di Derek Benfield. L'obiettivo del progetto è far recitare tutti. Noi diamo la possibilità a tutti i ragazzi che si iscrivono al nostro laboratorio di recitare e siccome sono anche abbastanza numerosi, perché quest'anno ne abbiamo 28, non esistono a volte delle PS così, insomma, con parti così numerose. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo previsto due cast, proprio per dare la possibilità a tutti di mettersi in gioco e di provare questa esperienza. Il progetto scolastico vede nel teatro una delle vie utili per formare persone responsabili, ricche sul piano culturale ed umano, in grado di interagire con coetanei ed adulti, nonché di comprendere se stessi come risorsa per la società. Mio figlio ha una disabilità e lui viene a casa e dice io lì mi sento bene. E questo è riassumere tutto quello che è il teatro. In teatro tutti si sentono bene, tutti crescono, tutti si aiutano, tutti si sostengono e quando sul palco uno non si ricorda un pezzetto c'è sempre qualcun altro che ti prende per mano. E' proprio questa la magia del teatro. Gli alunni della seconda media della scuola Francesco Petrarca di Deiva Marina hanno visitato la mostra di icone russe donate al comune di Deiva ed esposte attualmente presso la torre Saracena. I ragazzi hanno dimostrato grande interesse per l'antica tecnica pittorica e per le scene a carattere religiose che sono rappresentate. Hanno inoltre potuto visionare l'esposizione libraria inserita nella rassegna il maggio dei libri 2017. Una visita di cortesia all'insegna della fratellanza tra i popoli nel ricordo della grande guerra. E' quella che l'arciduca d'Austria Marcus Dasburgo Lorena, pronipote di Francesco Giuseppe, ha svolto nei giorni scorsi al Museo Marinaro Tommasina Andreatta che ha sede nella scuola di telecomunicazione delle forze armate a Chiamari. Vediamo. Sono tanto onorato di vedere tante cose interessanti qui in sua città. Visita di cortesia agli spazi espositivi del Museo Marinaro Tommasino Andreatta per l'arciduca d'Austria Marcus Dasburgo Lorena e del presidente della OMV, ovvero l'Associazione Marinai Austriaci, il colonnello Karl Scrivanek. Il pronipote di Francesco Giuseppe ed Elisabetta d'Austria è stato accolto dal curatore del Museo Andreatta e dal comandante della scuola delle telecomunicazioni delle forze armate per approfondire una conoscenza del territorio ligure, già avviato lo scorso anno con la visita alla Spezia in occasione delle celebrazioni dei cento anni della grande guerra. L'anno scorso su altezza l'arciduca Marcus e il colonnello Scrivana che sono venuti alla Spezia per celebrare le ricorrenze della guerra 15-18. Quest'anno sono tornati e abbiamo avuto tempo e modo di organizzare la visita alla scuola telecomunicazione, al museo della scuola, per le stesse ragioni. Cioè è un messaggio che porta l'arciduca di fratellanza, dopo una guerra che fu tragica, anche in funzione della Fiacola della Pace, che è un'istituzione fondata dagli Asburgo che viene portata avanti dal suo cugino Sandor Erta d'Asburgo e che si prefigge proprio di portare pace e fratellanza tra i popoli. A fare gli onori di casa il comandante, Ernani Andreatta, che insieme a quello della scuola di telecomunicazioni Giuseppe Cannatà ha accompagnato gli illustri visitatori nelle diverse sale di cui si compone il Museo Marinaro. La raccolta Tomasino-Andreatta si unisce a quelle che sono le sale storiche della scuola, dove invece sono raccolti reperti relativi all'attività propria della scuola di telecomunicazioni, cioè sostanzialmente apparati telecomunicazioni usati negli anni e che noi abbiamo messo in mostra per ricordare quello che è stato il passato della scuola e perché possa essere così di stimolo per chi viene a visitare il museo, a approfondire gli studi, ad appassionare verso il mondo delle telecomunicazioni e della Marina insieme che in qualche modo sono connessi e vivono uno per l'altro in buona sostanza. Domani alle ore 21 si svolgerà l'Assemblea Generale dei Soci della Croce Verde Chiavarese nella sede di Largo Casini 10 a Chiavari. All'ordine del giorno, approvazione del conto consuntivo e finanziario dell'esercizio 2016 e relativi allegati. Ancora cronaca, i carabinieri di Sessi Levante durante un controllo alla circolazione stradale hanno sorpreso un 28enne di Castiglione Chiavarese in possesso di un'autoradio rubata. I militari hanno quindi perquisito la casa del giovane, trovato altri oggetti rubati come due macchine fotografiche, un mazzo di chiavi, un paio di occhiali, un lettore DVD, un cellulare e un orologio. Arrestato per furto aggravato, continuato, questo mattina è stato processato con rito direttissimo. E' un lavoratore assunto irregolarmente, è stato individuato dai carabinieri in un cantiere edile per la ristrutturazione di un albergo. Il fatto è accaduto in Via Zara, a Santa Margherita Ligure, durante un controllo dei militari del nucleo ispettorato del lavoro. La verifica ha fatto emergere, tra le altre cose, anche la mancanza di un'idonea recinzione del cantiere. L'amministratore unico della società, un casertano di 42 anni, è stato denunciato e multato con 10.500 euro. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 30 maggio. Continuano le iniziative per il Parco di Portofino in festa. Alle 10, nella sede del Lente, in Via Rainusso, a Santa Margherita Ligure, proiezione di filmati sul tema a caccia di cacciatori. Nel pomeriggio alle 15, con ritrovo nel parcheggio di Portofino Vetta, prenderà via l'escursione guidata lungo l'anello alto del parco. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16, a Villa Quirolo, Paolo Modenesi tratterà il tema l'addomesticamento dei vegetali. Per il dodicesimo corso di cultura genovese, con inizio alle 16.30, nella sala livellare di Via del Pino a Chiavari, Cesare Dotti ripercorrerà le tracce di uno scomparso monastero chiavarese nell'incontro dal titolo Le Indaffarate Monache di Sant'Eustacchio. Alle 20.45, nell'ex convento dell'Annunziata di Sesse Levante, nuovo appuntamento con Mondovisioni, i documentari di Internazionale. Nella sala Agave sarà proiettato il film Under the Gun di Stefanie Söchstig. 5.000 persone da 35 nazioni si è chiuso con questi importanti numeri. Il campionato europeo Master di Chiavari, ospitato nei giorni scorsi a Chiavari. Sulle pedane del palazzetto dello sport di San Pier di Canne sono saliti ottimi atleti in età adulta, che forse per la prima volta hanno fatto balzare lo sport della scherma agli occhi del grande pubblico. Noi eravamo presenti. Italia prima nel medagliere degli europei Master di scherma. A Chiavari gli azzurri hanno portato a casa 22 medaglie, 6 d'oro, 8 argenti, 8 bronzi. Subito dietro Germania, Russia, Francia e Gran Bretagna. Successo anche per l'organizzazione. 1.500 iscritti, circa 5.000 persone presenti. Le strade di Chiavari prese d'assalto, è il caso di dirlo, da atleti e accompagnatori. Credo che sia la dimostrazione che lo sport può essere anche indotto, può essere anche turismo e auspico che chiunque presiederà la prossima amministrazione persegua queste manifestazioni, perché se fatte prima a livello comunale, poi comprensoriale, possono essere anche un futuro economico per la nostra realtà. Alla manifestazione non ha voluto mancare il Vescovo, che ha salutato organizzatori e atleti, ha seguito alcuni assalti sulle pedane del palazzetto di San Pier di Canne e ha premiato i vincitori di giornata. Chiusi i quattro giorni di scherma, rimane la sensazione di uno sport che rende giovani di una passione che non tramonta. Lei la passione per la sciabola l'ha sempre avuta? Io l'ho sempre avuta, ho avuto un grande stop, dopo 35 anni ho ripreso e adesso come ultimo anno in questa categoria ho vinto. È una soddisfazione per tutti noi, è un circuito master dove noi ci crediamo, facciamo gli atleti seri, anche in considerazione dell'età, non possiamo non arrivare allenati, altrimenti l'età comporterebbe altre controindicazioni e quindi ci definiamo non dei professionisti, però degli ottimi atleti, questo sì. Sono tutti schermitori che da anni praticano questo sport come Paul di Fioretto, un grosso schermitore, Cohen di Sciabola, grande schermitore, grande vincitore di campionati del mondo, campionati europei. Sembra tutto facile ma in realtà non lo è. Virtus Entella e Gaslini ancora insieme. Prosegue la collaborazione tra il Club dell'Entella e l'Istituto Pediatrico Genovese. Dopo la visita della prima squadra, domani alle 15, la formazione Primavera e una nutrita delegazione di dirigenti bianco-celesti incontranno i piccoli pazienti di alcuni reparti della struttura e anche le loro famiglie. Sarà presente anche Sabina Croce, presidente di Entella nel Cuore, che si occupa di tutte le iniziative solidali della società chiavarese. Grande successo ieri per il dodicesimo convegno della Winner Volley, tenutosi nella prestigiosa cornice del circolo golf-tennis-rapallo. Il tema oggetto di dibattito è stato il rapporto tra fumetto e sport, tra gli interventi quello del fumettista Carlo Kendi, decano degli sceneggiatori Disney e pilasso della scuola Rappallese del fumetto. Nel suo curriculum oltre 30 storie in tema sportivo in 62 anni di carriera. Al termine del dibattito è seguito una cena conviviale nel corso della quale sono stati assegnati i premi ad Enrico Prandi, ex presidente Panatron e segretario generale della Lega Nazionale Basket, siete a Giovanni Orio, ex segretario Fabrizio Pagliettini, direttore circolo golf, e la coppia Pier Giacomo e Antonella Tassi, che a Pontremoli curano il progetto Teodoro per la cura della leucemia infantile. E avete visto appunto le foto. E questa era anche l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovata domani alle ore 12.45 con il TG13. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21.10 per ripercorrere un pochino la visita, il regalo che il Santo Padre ha fatto al nostro capoluogo a Genova sabato scorso. Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione. Buona serata a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.